conoscere mind tree manuale introduttivo di simone bedetti l'universo è intelligente è vivo è spirituale siamo fatti della stessa energia puoi utilizzare la stessa energia dell'universo per ottenere il meglio apri la tua mente all'energia universale e libera le tue risorse più profonde mind tree è il metodo che cercavi che cos'è mind tree mind tree letteralmente tre menti è un metodo di crescita personale che ho sviluppato dopo una ricerca di oltre 25 anni e dopo una lunga sperimentazione considero mind tree anche il risultato del lavoro di area 51 publishing la casa editrice che ho fondato che ho contribuito a far crescere insieme ai nostri autori ai nostri lettori mind tree è uno dei frutti dell'energia che credo area 51 publishing automaticamente e profondamente emani rispetto alla volontà e al desiderio profondo di aiutare le persone a trovare la propria strada a trovare gli schemi a trovare i processi a trovare la conoscenza a trovare il pensiero a trovare le tecniche per evolvere autonomamente da se stesse per se stesse e con se stesse abraham lincoln il grande presidente americano parlava della democrazia che nasce dal popolo per il popolo con il popolo penso che mind tree abbia questa essenza dentro di sé l'ambizione la spinta a essere un metodo che ognuno di noi può usare da se stesso con se stesso e per se stesso perché sono convinto che soltanto dentro di noi ci siano le risposte giuste per noi e che soltanto noi possiamo scavare dentro noi stessi e trovare quelle risposte per portarle sopra noi stessi oltre noi stessi nella direzione della creazione della nostra migliore vita il primo grande messaggio all'occidente la prima istruzione fondamentale di saggezza venne data dall'oracolo di delfi questa istruzione era gnothis auton conosci te stesso penso che questo messaggio che venne poi ripreso da socrate e che ritroviamo lungo tutto il corso della storia umana sia ancora adesso il messaggio fondamentale l'impulso fondamentale per muovere verso il corso della nostra vita per trovare il corso della nostra vita per trovare il senso della nostra vita ed evolvere nella realizzazione della migliore nostra vita considero mind tree una tecnologia mentale perché utilizza strumenti mentali per ottenere risultati reali ma considero mind tree anche e soprattutto una tecnologia spirituale perché la struttura fondamentale in cui opera è una struttura spirituale gli assunti di mind tree sono che l'universo è intelligente vivo e spirituale che l'energia dell'universo ha una direzione precisa una direzione verso il meglio verso la continua crescita e che ognuno di noi è composto della stessa energia dell'universo ognuno di noi cioè ha dentro di sé una sua spinta verso il meglio per sé quando siamo ripuliti da blocchi e impedimenti che si trovano sempre su uno o più livelli della nostra mente subconscia livelli biografici e livelli transpersonali tutti noi possiamo realizzare la nostra migliore vita la nostra unicità il nostro vero sé e raggiungere la nostra vera felicità una meravigliosa immagine creata da uno dei padri del nuovo pensiero ernest holmes ci dice che ogni individuo è allo stesso tempo un canale di uscita e un canale di entrata rispetto all'energia spirituale divina dell'universo è questa l'immagine di una meravigliosa reciprocità di una meravigliosa interdipendenza e compenetrazione tra l'energia divina nell'individuo e l'energia individuale nell'energia divina ma in tree si colloca proprio in questo processo ci permette di evolvere per diventare canale di ingresso per portare la nostra unicità che diventa crescita ulteriore dell'universo stesso nutrimento dell'universo stesso ma pone come passaggio imprescindibile quello di essere il miglior canale di uscita dell'energia divina in noi e attraverso di noi nella nostra realtà per questo considero main tree soprattutto una tecnologia spirituale perché utilizza la mente per arrivare allo spirituale utilizza la mente come canale spirituale e permette allo spirito di passare dalla dimensione infinita alla dimensione infinita reale e individuale main tree non è un metodo scientifico né pretende di esserlo anzi potrei dire che main tree è un metodo rigorosamente non scientifico siamo esploratori di dimensioni di territori altri rispetto a quelli della scienza non vi è perciò nessuna pretesa scientifica né tanto meno pseudo scientifica nella ricerca di main tree non scientifico non significa però non rigoroso non serio abbiamo tutti noi il diritto di esplorare oltre ciò che la scienza ci dice con il massimo rispetto per la scienza ma senza dover dipendere né restare sottomessi ai paradigmi scientifici questo lo preciso perché ho il massimo rispetto per la scienza e il paradigma scientifico gli obiettivi della nostra libertà della nostra felicità della massima espressione di noi stessi della nostra massima creatività del nostro massimo benessere della nostra massima perpetua salute tutti questi obiettivi la scienza non li ha come suoi obiettivi nella scienza non si possono trovare risposte per queste domande queste risposte questi obiettivi possiamo raggiungerli solo esplorando l'immenso territorio della nostra mente e l'infinito territorio del nostro spirito tocca a noi assumerci la responsabilità di prendere in mano la nostra vita la nostra mente la nostra anima il nostro cuore e costruire il nostro corso il corso del fiume della nostra vita